Da metà della prossima settimana è previsto un nuovo cambiamento del clima. L'anticiclone responsabile dell'alta pressione, che sta dominando il nostro paese da almeno una settimana, sottolinea il meteo3bimeteo.com, farà qualche passo indietro e un primo sistema nuvoloso attraverserà da nord a sud la penisola con delle precipitazioni e un calo delle temperature. Dopo una prima veloce perturbazione del 3-5 febbraio, un secondo affondo più intenso pilotato da una vasta ed energica circolazione di bassa pressione sul nord Europa. Si farebbe largo tra le maglie dell'alta pressione nel weekend 7-8 febbraio. Saranno masse d'aria più fresche in discesa dal nord atlantico, punterebbero l'Europa centro-occidentale al seguito di alcune perturbazioni, dando luogo al ritorno delle precipitazioni sulla penisola. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il peggioramento riguarderebbe gran parte dell'Italia, ma in particolare il centro-nord, dove si dovrebbero avere precipitazioni diffuse, previsto anche il ritorno della neve in montagna.